Ciao a tutti ragazzi Siamo qui nel quinto episodio del mio let's play Mi ho dato Penso sia il quinto episodio O spero sia il quinto episodio Allora dall'ultimo episodio ho messo qui questi fence gate Perché così i mob non arrivavano Sono stato fk qui a duplicare tutti i materiali Con la nostra smeltery Qui abbiamo un po' di gillorium Ho aggiunto un altro tavolo qua Per andare il dubbio più veloce E ho fatto un sacco di mining Vedete che abbiamo altri diamanti qui Non penso che si possa moltiplicare il dark iron Con la smeltery No infatti Quindi dobbiamo trovare un altro modo Aluminum e tutto il resto Ad ogni modo Stiamo arrivando a un punto Dove le nostre chest non bastano più Fill that light Ok come sto dicendo Le nostre chest non bastano più Potete vedere Tutta la redstone che l'ho compattata in blocchi È probabilmente quello che farò anche con la redstone Che ho appena ottenuto Quindi boom 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 Perfetto 23 E stessa cosa ho fatto con il ferro e con l'oro Perché ne avevamo tipo tantissimo Ho fatto un altro bel po' di mining A livello del ferro Per prendere più ferro Ho fatto un piccolo errore Ho messo ferro e ferro Una volta insieme Quindi ho creato un sacco di invar E un po' di eletrum Per sbaglio E anche un po' di bronzo Dovrei aver creato Eccolo qua 56 bronzo E non è la fine del mondo assolutamente Possiamo usare tutti questi materiali Per creare altre cose E abbiamo quasi uno stack di diamanti GGs E abbiamo tutte queste cose Da metter via Ho creato un altro chest qui Temporanea Dove metto tutte le cose un po' casualmente E ho creato qui la nostra Ho fatto un po' di modifiche Ho aggiunto due generatori qui sotto Così ne abbiamo quattro Ho messo la nostra tanica qui Ah le fassate Vabbè Ho messo la nostra tanica qui Con Dei liquidi che vanno fin qua La lava E fin qua Così questa sesso è sempre piena E in più ho usato i cosi Qui ci sono delle facade Che possiamo togliere con questa Penso Sono abbastanza easy da craftare Potete vedere Che sono semplicemente Non da dev null Cosa c'entra Che sono uno structural duct Che è così E il blocco che noi vogliamo Ne craft a 6 E possiamo semplicemente mettere un tubo così E poi mettere la facade E è tutto molto Nascosto E ho fatto arrivare I tubi qui sopra Vedete qui abbiamo la nostra cell Piena Pronta per andare Questa mattina Allarga un poco E qui abbiamo il nostro Energetica Infuser Ricaricherò un po' il martello Perché Ho poca carica E quindi GG E cose da fare oggi Voglio assolutamente Entrare nelle mod tecniche E creare tantissime cose Nuove E interessanti Per riuscire ad arrivare In poco tempo Alla Applied Energistics 2 Boom Non andremo ancora a toccare Questa mod oggi Però Oggi Andremo a fare Un bel po' di progressi Con la Thermal Expansion E con la Ender I.O. Quindi Ora che abbiamo La nostra generazione di corrente Vediamo cosa possiamo usare La corrente quindi Ci servirà assolutamente Un pulverizer E un Beh Ci serviranno Un bel po' di questi Quindi Prendiamo Un bel po' di tin Facciamo Un bel po' Di questi Blocchi qui E Del vetro Vetro non ne ho Quindi direi Di cominciare a fare la Redstone furnace Quindi E Ok Perfetto Guardate Ho un piano Look at me I've got a plan Allora Bam 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 E Quindi 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 Facciamo così Creiamo un tin gear Ah Per il resto Ho creato anche questa Dev null Adesso vi faccio vedere In un attimo Cosa serve Bam Praticamente Si crea In una maniera Tipo super easy Con una mela E una apple E sono andato anche A prendere un sacco di Legna Per prendere le mele E Il look at this Praticamente Noi Piazziamo pizza blocchia Come un blocco Di cobblestone Vedete Qui possiamo mettere Dentro il blocco Che vogliamo Solo che Qualsiasi Ops 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 Qualsiasi cobblestone In più Che verrà raccolta Verrà distrutta Quindi la uso Quando vado a fare Mining Perché Sono diventato Tipo super pieno Di cobblestone Io non volevo Cioè Ne abbiamo già tantissima Qua Poi Non me ne serviva Così tanto Insomma Già uno stack Di cobblestone Basta e avanza Quindi GGQP E Ci servono Della clay Ci servono Della clay 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 Non ne abbiamo Non ne abbiamo clay Andiamo a prendere Della clay Per il resto Prima che andiamo Siccome abbiamo Tutta questa redstone E non sappiamo Cosa farci Non c'è Sappiamo cosa farci Però Ne abbiamo tantissima Perché non Upgradiamo la nostra pala Con un po' di redstone Non posso Non mi lasci Why E allora Andiamo alla tool forge Mettiamo la pala Ah qui mi lascia Vediamo di tenerci un modifier Perché voglio mettere anche qui Wow Siamo già pieni Wow 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 Vediamo di tenere un modifier Rimanente qui Perché voglio Voglio Mettere la corrente Anche qui Quindi Boom 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 Poi facciamo Così Uno Due Tre Quattro Siamo a cento Perfetto E quindi Dobbiamo avere ancora Un modifier Rimanente Per la corrente Quando Avrò voglia di metterla Ma al momento Non ho voglia Quindi sì E poi ho duplicato Il materiale Ma l'ho già fatto vedere Penso Non so Sono un po' addormentato Perché è mattina È la mattina dopo L'episodio Questo Non mi serve È la mattina dopo L'episodio Di Qualche episodio E quindi Sì Sono un po' Addormentato Squid mod Activated Andiamo a cercare Della clay Possiamo prendere Anche il nostro Excavator Ciò che ci siamo E Sì Vado a cercare Della clay Ok Perfetto Ho preso Pochissimi pezzi Penso Una trentina Saranno nel mio Backpack Qui Boom Sì Qui abbiamo Un bel po' Di cobblestone Ecco 20 pezzi Però Basta Ne avanzano Per quello Che voglio fare Quindi Mentre la nostra clay Cuoce Creiamo uno Di questi Con della redstone Prendiamoci della redstone A tenerci Nell'inventario Per i crafting Sbam bam Quello di suonatoz Poi Cosa ci serve Questo redstone Due copper gear Quindi Copper Gear Questo è bronzo Un Due Tre Due Tre Dup Dividi Dup Iron Copper gear Clay Otto Clay Gigi Wicks 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 Redstone Copper gears Reception coil Machine frame Redstone furnace Questa è una fornace Però Che cuoce le cose Con Il potere Magico Della Corrente Quindi Se noi vogliamo Un po' di vetro Che è quello che voglio Quindi prendiamo Mezzo stack di sabbia Per esempio E lo mettiamo Qui dentro Bam E possiamo Togliere Queste fornace Perché ormai Sono inutili E le mettiamo Qui dentro Non questa La mettiamo qui dentro GG Poi allora Vediamo Gli altri macchinari Che voglio Voglio assolutamente Un pulverizer Quindi andiamo A prendere Il nostro vetro Bam Voglio assolutamente Un pulverizer Quindi pulverizer Voglio un machine frame E facciamone due Perché no E prendiamo Un po' più di ferro Boom E pulverizer Machine frame Ne facciamo uno Per intanto Perché non abbiamo Il vetro Poi facciamo un pistone Non abbiamo Il legno Quindi prendiamo Un po' di legno E teniamo Solo nell'inventario Bam E Facciamo un pistone Pistone Perché non me lo fai? Non hai cobblestone? Lol E Ah Qualmente sta andando Nel mio zainetto Giustamente E Uff Sono abituato A avere sempre Della cobblestone Quindi Era per quello Che mi sembrava Strambo Allora Cobblestone Boom Pistone Possiamo farne 16 Ma facciamo 4 E Poi Pulverizer Copper gear Non abbiamo Copper Quindi prendiamoci Anche del copper Boom Questo sarà un po' Un episodio craftoso Quindi prendiamo Un po' del copper 36 E Facciamo 2 Copper gear Facciamo uno di questi Non abbiamo l'oro Bam È per questo Che voglio entrare Nella playa D'energistics Ragazzi Perché Prenderà tutte Queste cose Molto Molto Più facili E Copper gear Uffa 1 2 Copper gear E Poi voglio Della flint Che lo voglio muovere qui E Quindi possiamo fare un pulverizer Inver gear Inver gear Ah Questo è l'induction smelter Boom Pulverizer Poi voglio un induction smelter Quindi Andiamo qui Dovremmo espandere un po' Oh grazie Dovremmo espandere un po' La nostra linea di corrente Quindi Perché non lo facciamo subito Togliamo questo Passiamo Due in più Credo che bassino Craftiamo dei Ledstone Flux Vediamo se mi ricordo Come si craftano Vendiamo Del Lead Del Redstone Abbiamo già Nel inventario Del vetro Quindi così Così E poi Così Yes 18 Perché no Bam Bam Qui andrà il nostro Energetic infuser Bam Quindi quando si entra in casa Si vedrà questo Qui va il nostro pulverizer La nostra corrente Sta scendendo Quindi avremo bisogno di più lava generator Quindi vado a craftarne subito E Craftiamo un po' di lava generator in più Quindi Delle fornace Ne facciamo Altri 4 4 ha detto Potremmo craftare un QD in questo episodio Tutte le cose che vi vengono in mente Quindi Un po' di redstone Un po' di redstone Un blocco d'oro Cioè sì What? Un blocco di ferro 1,2,3,4 Dell'oro Bam E le fornaci E la redstone Bam Wow Yes Bitch Ah questo è quello che io chiamo Avere materiali Bitch Altri 4 generatori Mi serviranno anche I cavi Per il liquido Quindi Andiamo a cercare Se ne abbiamo già In caso sono qui Nope Abbiamo della stone Yep Quindi stone Così Così E così Invertito Ovviamente Of course Be happy Boom Il mio inventario è proprio un casino In questo momento Ma Non mi interessa Tra il resto stiamo finendo il cibo Hey 2,3,4 E prendiamo i nostri transfer pipe Li colleghiamo in questo modo Prendiamo i nostri generatori Li colleghiamo in questo modo Prendiamo i nostri ledstone flux duct Che dovremmo avere qui E li colleghiamo in questo modo Boom E poi eventualmente quando avremo un QID Questi verranno combattati tutti in un solo generatore Qui abbiamo del bronzo Che si sta formando Non so per quale motivo Strano Però Vabbè Si è fermata la produzione di bronzo Pam No No Cos'era Oro Formula cast Formula cast Ok Perfetto 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 Andiamo a mettere a posto i nostri lingotti E vediamo se Ora La nostra corrente sta salendo È ferma What Perché non stai salendo Non lo so Mi sembra strano ma Forse dovremmo aggiungere ancora più generatori Bitch Perché No ma mi sembra strano Forse Ok Ho capito Perché Praticamente Un creeper È risposto qui fuori Non so per quale motivo E aveva rotto uno dei miei cavi E quindi Non stava funzionando GG E quindi Ora mi serve Il nostro chisel Facciamo Due di questi Smooth talk planks E Boom Boom Perfetto Ora La nostra energy cell Dovrebbe Ricaricare Si Nice 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 Ok Perfetto Ora Craftiamo Delle altre cose Interessanti E Craftiamo Un altro machine frame Un altro Thing gear No Cosa sto piacendo Un Thing gear Uno solo Grazie E Svuotiamo Un altro Inventario Ok Craftiamo Altri due Machine frame Come ho già detto Boom Uno due E poi Craftiamo Un fluid transposer Bam Cosa ci manca No Un induction smelter Prendi tutto Quindi degli Inver Degli Inver gear Uh Questo iron Che noioso Che non ne ho mai Abbastanza Sbam Un po' di questi Inver machine frame Una reception coil Bam E Cosa mi manca Ancora Un secchio Credo Sì Un secchio Possiamo farne 20 E Facciamo un altro Già che ci siamo Perché so che mi servirà Induction smelter Sbam Cosa mi sta mancando Ancora Dell'inver Uno due Ora posso Craftare Il nostro Induction smelter Finalmente Altro macchinario Bam Questo va qui Il nostro Corrente Sì Ce la fa E questo è Per creare Dei materiali Speciali Della Tinker's Construct Poi Sì Della Tinker's Construct Della thermal expansion Scusate Poi mi servirà Magma Crucible Quindi Copper Gear Copper Gear Bitch Due Copper Gear Un pneumatic servo Cosa stavo Craftando Un Ignore Extruder Sul serio Vabbè Ho sbagliato Cosa Volevo Un Magma Crucible Quindi degli Invar Gear Vabbè Fail E Invar Gear Questi serviranno Di sicuro Questo anche Invar Gear Umum Magma Crucible Nether Brick Nether Brick Uh questo zainetto Che è noioso Profetto E Di Nether Brick Sbam Sbam E Poi Transfuso Marma Crucible Una Leadstone Frame Quindi un blocco Di questo Un po' di Leade Un po' di Vetro Leade Abbiamo poco Leade Devo andare A scavare Per Leade Leade E Nether Brick Avete finito Quasi Sette E Otto Bam E Perfetto E quindi Possiamo fare Il nostro Magma Crucible No Manca Uno di questi Giustamente Team Gear Machine Frame Magma Crucible Magma Crucible Questo Sempre Ovviamente Ne faccio due Perché poi voglio fare Anche un ultimo Macchinario Per oggi E infatti Qui ho ancora Tre posti No voglio farne Altri due Macchinari In effetti Ora che ci penso Quindi dovrò Rifare tutto Però Ehi Capita Sbam 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 Magma Crucible Questo scioglie Dei materiali E li fa diventare Liquidi Don't say Però questi li voglio Sono caduti di sotto Merda sono caduti di sotto Fluid Transposer La prossima cosa Quindi mi servirà Semplicemente Di nuovo Niente Dovrei poterlo già craftare Secchio Copper Gear Uno di questi Perché no Un altro Non lo so E Secchio Vetro Mi manca del vetro Devo cociere più vetro Qui sto cuocendo del pane Però posso Toglierlo per il momento E possiamo ripiazzare I nostri Strumentini Quindi Magma Crucible Induction Smelter Perfetto E Il vetro Dove sta andando Dove sta andando Wait what What Wait wait No 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 Ho sbagliato Che fail Bellissimo Oh vabbè Niente Ho appena Fail Fluid Transposer Che questo è un altro bel macchinario Che userà i liquidi Del Di questo Per Craftare delle cose Principalmente E Poi Mi servirà la Soamil La sagmil Soamil No Soamil Soamil Quindi una Iron axe Degli stick Una Iron axe E Del legno Copper gear E Uno di questi Che ovviamente Non posso fare Perché Non ho Oro Su di me E Boom No Non mi lasci Uno di questi Uno di questi Due di questi Due di questi E E E Lascia Sbam Soamil E Questo macchinario L'unico suo mestiere È quello di Prendere il legno E Invece di darmi I Quattro pezzi per log Di darmene Sei E quindi Abbiamo tutti i nostri macchinari In posizione Ok ragazzi Prima che l'episodio finisca Siccome andiamo ancora Qualche minuto E Vorrei Craftare un QID E Vi spiegherò No Ho appena Spiegato un Underbar GG Vi spiegherò Dopo averlo Craftato Che cosa serve Però Intanto voglio Due set Di Ender Infused Obsidian Quindi Sbam Sbam Bam bam E Mi sa che avevo Ender pearl Giuste Per crearlo Quindi Devo cercare anche Più ender pearl Di quelle che abbiamo Però Capita E ora mi serve Della blade Powder Perché devo Devo avere Della blade Del blade Road Insomma Vado nel nether Ci sentiamo Quando sono pronto Poi craftare Ok ragazzi Dall'ultimo segmento A questo È passato Tipo Qualche oretta Perché sono dovuto andare But But Ricordo Vagamente Ciò che stavo facendo Ovvero Stavo Se ero andato Nel nether Per Prendere Delle blade Road Per il resto Ho preso anche Un miniatur Reddart Una treasure bag Gold coin Nulla di Troppo interessante Come sempre Allora Prendiamo le nostre Blade Road E Una Che cazzo Va bene Una due Ne prendiamo E le maceriamo Sbam Quattro E Sulfur E Guardate Abbiamo anche Sulfur Adesso Che non ci serve Perfetto Abbiamo La blade Powder Quindi sono riuscito Anche tra il resto Tra l'episodio A prendere Due Ender Per l'in più Sperando che Mi bastino Quindi posso far Diventare Queste due Eyes of Ender Poi Per un QED Mi serve Ender Infuso Obsidian Una crafting table Cuociamo Il nether Quartz Quindi Sbammete Non posso Boh Non so perché Non mi lascia Quindi mi sa Che dovremmo farlo In una fornace Vanillosa Dovremmo averla Qui da qualche parte Esatto Alcuni oggetti Con la red zone furni Sono un po' Buggati Non proprio Non te li lascio Mettere dentro E Però It's ok It's ok Uno Due Perché tu ti sei tolto Anche se Probabilmente posso Buttarti via Però Ti tengo Perché sei Pro E tu puo E Servono due Carboni Sbamm E abbiamo il nostro Burned Quartz Che tra il resto Oltre a essere un blocco Che si usa per il crafting E anche un blocco Tipo fighissimo Ci farò sicuramente Qualche build Ecco Non è stata una buona idea Forse piazzare la Ender Infused Però Ehi capita Guarda come adesso rompo anche il pavimento No Ok E allora Andiamo qui Craftiamo un diamond Etched Ho sbagliato La pattern Tammila Ender Infused Un Diamond Etched Questa merda qui Che anche tra il resto È fighissima Boom Ci sta tantissimo E si rompa anche facilmente Anche se è fatto con l'ossiliana E poi facciamo così 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 E Così Q I D Però ci serve anche un'altra cosa Che ci servirà un'altra Ender Pearl E dell'altra ossiliana Due, tre Quattro Ed un'altra Ender Pearl Ed un altro Eye of Ender Quindi ne ho proprio giusti abbastanza Per fare un Ender Flute Crystal Poi appena posso Ne farò di più Però ora non posso Quindi non ne farò di più You don't say Lo mettiamo qui così Poi mettiamo il cristallo qui così E vedete qui possiamo fare Le nostre operazioni Crafting della Extra Utilities La prima cosa che voglio fare Adesso proprio Subito a finire l'episodio Perché se non ricordo male Abbiamo Il tempo contatto Voglio creare un Energy Node E Energy Transfer Node Eccolo qui Quindi Le Transfer Node per Item Bread Search First Merdok Oddio Ok quindi Queste Breath Upgrade Ne facciamo Degli altri Perché Poxiamo E Dov'è 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 Bam Sei di questi Possono bastare E Questi in eccesso Li mettiamo qui Poi ci serviranno Dei Transfer Node Item Quindi 1,2,3,4 Ci serve della Redstone Quindi 1,2,3,4,5,6,7,8 Sbagliato Tavolo 8 Poi dei Transfer Pipe Che dovremmo Muovere Da qualche parte Eccoli 4 giusti Perfetto E Qui vanno qui E poi Non mi ricordo più Boom Boom Ho sbagliato Boom Boom E Stone E chest Quindi Stone Non ne abbiamo Basta farla E chest Tra il resto Questo mi sa che è uno Di bagla nuovo aciso In cui manca il vetro Quindi Andiamo a ripiazzarlo Me ne sono accorto adesso E Ne abbiamo ancora Di quel vetro lì No E allora lo ringrazierò Più tardi E ad ogni modo Facciamo dei Transfer Node E poi Possiamo scendere Di sotto Usare Il nostro Bread Search Upgrade Questa merda qui Vedete 4 Transfer Node 4 pezzi d'oro E boom Abbiamo un Energy Transfer Node E vedete che adesso Lender Flux Crystal Farà delle particelle invisibili Per qualche strano motivo Probabilmente perché Le ho tolte Esatto Eccole qui Fra delle particelle E più Di questi Ender Crystal Abbiamo Più andrà veloce Ora ne è uno solo Quindi è tipo l'interrimo Nel frattempo Andrò a rimuovere Tutti questi generatori E tra poco capirete anche perché E anche tutti questi Pipes Non mi servono più Boom 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 E la cobblestone che ho usato Per mettere il pavimento La rifarò dopo Appunto Anzi vado a farla subito Voilà Ora ci serve solo Questo Energy Node Energy Transfer Node Possiamo andare in una crafting table Possiamo andare in una crafting table Che ne ho solo di sopra Dove fare qualche crafting table di sotto Possiamo mettere 8 di questi generatori Attorno ad un Transfer Node Per creare Un nuovo generatore Che contiene 8 generatori E è molto più efficiente Del primo Quindi Adesso io lo piazzerò qui E questo è come tutti Quegli gli altri generatori E anche meglio In uno solo Sempre che Il nostro La nostra Ender Tank Si decida Ok Non era girata Nice E questo farà Molta più corrente Di quello di prima E quindi GGWP Per questo episodio è tutto E vi ringrazio per la visione Vi rimando in prossimo video Che caricherò E ciao ragazzi Grazie